Sei uno sfigato, ma cosa vuoi? Allora, questo è un fenomeno! Time Out è la prima tribute band ufficiale di Max Pezzali degli 883. Stavo dicendo, ma è troppo uguale questa voce alla mia. Perché è l'imitatore ufficiale, quello vidimato, da Max Pezzali, si chiama Fabrizio Urbani e suona i Time Out. Esatto, e lui a volte è più me di me, diciamo. È un talento questo qua, è incredibile. Questa è la storia di due ragazzi di Pavia, che passavano i loro pomeriggi in cantina, a scrivere canzoni e a sognare l'America. Dimmi come vai, da chi sarai? Lo strano percorso, di ognuno di noi. Non hai volato il sabito proprio perché. Sei amico, non poterai mai, niente, 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 mai. Non vorrei, vuoi vederti come fidanzato. Questo senso di vita che scende e che va dentro vivo all'anima Nella lunga è stata il caubissima Non sudo a me stesso, è forse quel che cerco neanche sped Non sudo a me stesso, starò cercando per io lo sped Ha conciso l'uomo l'agno, chi sia stato non si sa Forse è quel che bella, ma la forse è la pubblica Ha conciso l'uomo l'agno, non si sa neanche perché Avrà fatto la cascara o la qualche industria di caffè Tieni il tempo, con le gambe e con le mani Tieni il tempo, non fai partiti dalla tua mani Tieni il tempo, voglio amarti e vedrai Tieni il tempo, il ritmo non finisce mai Tieni il tempo, grazie!